e ora tutti ragazzi benvenuti nel mio nuovo video sono il vostro lele colli scusate ma ho un problema negli occhi perché stare sveglio la notte non è mai bello comunque siamo questo video parodia tutorial perché oggi si fa il tutorial di come accendere un accendino oggi il maestro di vita si insegnerà come accendere un accendino ma come sempre prima di cominciare i video vi invito a passare su tutti i miei social qua sotto di facebook twitter instagram musicali che ritrovate nell'infobox qua sotto e come sempre vi invito a lasciare un bel like mi piace e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando e adesso siamo pronti per questo video tutorial tutto da imparare quindi allievi studenti preparatevi a imparare una cosa nuova nella vita via e ciao a tutti amici sono davidabib e oggi stiamo in un nuovo video ha detto veramente in un nuovo video cioè ha fatto questo e basta ci ha fatto il primo e ultimo video cioè questo video tutorial come accendere l'accendino cioè e basta ci ha fatto questo e basta cioè nuovo video oggi vi insegnerò come accendere un accendino questo è un accendino ok lui ci insegnerà come accendere un accendino quindi lui mostra l'accendino perché noi siamo ignoranti non sappiamo neanche cos'è un accendino quindi io ho trovato questo a caso e non sapevo nemmeno è che era un accendino questo qua un accendino io ho scambiato per una penna cioè dove posso scrivere qualcosa sul foglio quindi questo è un accendino perfetto cioè io sono un capro ignorante e questo non sapevo che era un accendino lo scambiato per una penna pensa un po te non pensate male io non fumo di mia sorella ah no tranquillo e non penso male che l'accendino è tua che la tua età che sei nato sette giorni fa fumi quindi già la tua età inizia a fumare no perché ci sono già bambini più più un po più grandi di te che già fumano però no non penso male comunque se di tua sorella va bene ok va bene ci credo come no ci credo sì allora dovete prenderlo esattamente da qua e fate dovete stringere forte per poi fare così ok allora io devo prendere l'accendino in mano stringere forte accendere provare accendere l'accendino non ci riesco maestro non ci riesco ce l'ho fatta accendere l'accendino miracolo e si è spento fare così guardate lo tocco lo tocco guardate allora ragazzi guardate voi non dovete mai giocare nel fuoco però io sono un professionista perciò vabbè certo noi non possiamo giocare con gli accendini perché noi siamo direttanti lui è un professionista quindi può fare quello che vuole normale certamente uno che fa così così cosa accende io sono anche io professionista perché ho imparato da lui dal maestro di vita vedi faccio così faccio cosa e voilà professionista ehi guardate eh è basso è alto basso alto basso alto vabbè ragazzi questo video è porca puttana no non ci credo no non ci credo cioè ragazzi è bruciato cioè in pratica ha tenuto troppo ha acceso l'accendino così che la parte di metallo si è surriscaldato e quindi l'ha messo nella mano o nel palmo da qualche parte e si è bruciato cioè meno male che era un professionista perché i veri professionisti non fanno questi errori veramente lui proprio ci ha diriziato alla grande socialista interessa via ma naturalmente fantastico va bene raga il video tutorial finisce qua e come sempre se vi è piaciuto questo video parodia tutorial ovviamente vi invito a lasciare un bel commento qua sotto dite la vostra su questo maestro di vita che ci ha insegnato una cosa nuova come accendere l'accendino perché noi non lo sapevamo lui si quindi lui ce l'ha insegnata noi pazzesco come sempre troverete tutti i link e descrizioni qua sotto di facebook e instagram musica di lasciato la mi piace e iscrivete il mio canale se non l'avete ancora fatto se no vi subite un attenzione di vita del nostro maestro che verrà a casa vostra poi sono cazzi vostri e non miei ovviamente come sempre vi saluto raga e ci vediamo un prossimo video bagazzo vostro ricordo ciao e la prossima ciao